E finalmente sono di nuovo su far... Dove cazzo sono? Cos'è sto posto? Oh ma... ma... degli schedari in fila... Ma... sparatorie... e dove sono finito? Cosa... cos'è successo a questo computer? Ma uh... ma che luogo è questo? Fammi uscire! Ah... ah... sono già arrivato... Ah ok... devo prendere l'aereo... posso guidare l'aereo... Posso guidare... no no te... L'ho evitato... Tutto questo non serve a un cazzo... Ti ricordi che ti fai in America? Da noi si bussa... Dov'è il diario originale? Te l'ho detto... più lavori per me... Più le barre nere della censura faranno ciao con la manina... Attenzione... Forza... Ah... scendi... mi hai aspettato sei anni... Per buttare giù una macchina da scrivere... Entra... ti do un assaggio... Consideralo un anticipo... Dai dai... vuole assaggiare tutto... vuole assaggiare... Bene... sentiamo... Dai... Quando reclutai il tuo vecchio fu davanti a una bottiglia di scoccia... In un barretto losco a Tirta... Lavorava ancora per Pagan Min... allora... E aveva ancora quella luce negli occhi... Che luce? Quando Min ha affreddato l'erede al trono del tirato... Non mi spiega la luce... oh... È stato un gran merdaio amico... Scusa il francese... Tranquillo... Tranquillo... Sarà nel documento che ti darò dopo la prossima missione... Madonna... È diventato sordo ma tanto ci sono i sottotitoli... Ah già... dai... ci sono i sottotitoli... Quando tua madre lasciò il Kirat... Tutti se la presero con lei... A quanto ne so... C'era di mezzo Yuma... Vuoi risposte? Gli indizi portano a lei... Quindi cosa sai di lei? È il braccio destro di Pagan Min... Ma abbiamo... sono arrivati... Ah ok... Lo sai cos'è? Lo Yin-Yang... Il buco del culo? Certo che sì... No no... Ma non lo so se è vero... Oh... È un buco del culo... Pallo fuori... Ok... E Yuma sarà un burattino nelle nostre mani... Va bene... Ma come hai fatto a parcheggiare in mezzo alla neve così... Senza problemi? Perché lui resta lì? Perché non mi dà una mano? Quanti perché... Quante... Quante poche risposte mi ha andato... In questa... In questa partita? Andiamo a spaccargli il culo... Molestare di... Ah... 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 Ormai la mia pronuncia del Kiratese... Cazzo spacca i culi... Uh... Stelto... Stelto... Ma no che brutto... Uh... Ma... Ma c'hanno la faccia rossa questi qui... Sono stati troppo al freddo... Allora... Oh... In faccia... Ups... Nooo... Ho sbagliato... Si è messo in mezzo... Ma in che lingua tedesca ha parlato quello lì? Non ho capito... Stelto... 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 Ninja... Stelto... Stelto... Ma dai... Ninja... Perché si è buttato giù così quello? Aia... Ma dai... Ma questo qui è Heilander... Eh... Dai su... Quante frecce ti devo lanciare? A posto... Ah era lui? Vabbè... Ah ecco perché era Heilander... Perquisisco... Willis mi sono occupato... Ah scatta una foto? Ho sbagliato... Adesso sicuramente lo riconosce... Dopo che ho fatto la foto al giubbino... Come cazzo fai a riconoscerlo? Era girato... Vabbè... Va bene... Va bene... Carino... Carino... Comunque ho fatto bene a raccogliere una quantità spropositata di erba verde... Così adesso il contatore non finirà mai... È permesso? Uh... A due mani come Dark Soul... Vai! Ma da quanta fatica... Esattamente come Dark Soul... Uh... Quanta gente... Quanta gente da... Da quante parti poi? Ah eccone uno... Ma dai... Si è pure spostato... Sono diventati più forti questi nemici... Bisogna dire... Il gioco sta diventando molto più... Uh... Quanta luce... Non vedo un cazzo... Eh che ti vedo eh... Briella... Madone che kill! Sono troppo pronto... Madonna! Va che sto facendo quelle kill... Quanto urlato... Quanto entusiasmo poi... Ah dove perquisirlo prima... Scusi signor Obama... Avete capito eh... Ve la devo spiegare... Perché Obama dà le medaglie... Come nel meme... Ma porca sono morto! Perché ho detto... Giustamente ho detto una troiata... Adesso... Meritavo questa fine... Non esplode... Ah... 40 minuti... Eeeh... Esplode tutto e esplode... Madò! I macelli... Ho finito le medaglie... Chiamami quando hai ucciso il comandante... Stealth! Needs a body stealth! Sono arrivato! Pesanti queste porte... È tutto rotto però... Dove devo andare? Una scala... La rompo... Ma... Una scala indistruttibile... Uh... Mi sto addentrando nel cuore... Della madre terra... Uuuuuh... Mi stanno addosso... Io levo le tette... Cosa? Aspetta! Io come faccio ad andarvi? Eh... Bella domanda... Mi viene forte stellina... Tornerò per darti un passaggio... Ma porca... Allora devo andare lì... Però lì ci sono i cattivissimi... Stealth! Stealth! Madò... Stealth! Stealth! Ssss! A fare casino! Coglione! Oh! Aia! No no no! Stealth! Mi han visto? Mi han visto? Eh mi han visto sì eh! Mi han visto sì! Porca! Ah! Ah! Dove? 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 Di qua? Di qua? Di qua? Di qua? Di qua? Ah! Oh! Ah! Cosa fa quello lì? Un macello! Sei scemo? Ah! Ma dai! Tutto infiammeggiato qua! Salve signor! Ah merda è morto questo qui! Eh vabbè! Arrivederci! Il culo di Buddha! Però non si può dire! Checkpoints! Dopo un'eroica fuga! Sono stanchissimo però qua! Devevo correre! Fare le maratone! Nessuno mi può giudicare! Nemmeno tu! Pepepepe! Oh! Cosa mi... Ma do! Quell'RPG no però! Deficienti! Pericoloso! Ma do! Le esplosioni! Siete morti! Non è morto nessuno! Pleveo! Attenzione! Volano parole grosse! Pro gamer! Non mi piace farlo sniper però! L'ho mancato! Come l'ho mancato! Mi inspira per bene! Prima di sparare! Tutto scaracchiato! Nel culo! Fa ridere la parola culo! Perché sembrano! Ma sei coglione! Tone il mallevolo! Però ho dovuto rinnegare il mio amico Arco! E questa cosa un po' mi dispiace! Devo dirlo! Oh! Pianino! Ah! Ma dai! Ma torna lì! Sali! Non sale! Non sale! Le palle! Ma se vado dritto di qua? Ce la faccio uguale! Ah! Ma è qua che devo andare! Ma avevo sbaglietto! Quanta gente ancora! Basta! Ma che palle! In realtà non lo volevo attaccare! Briga proprio con nessuno io! Avete fatto tutto voi! Perché siete delle persone cattive! Volevo vedere adesso se non ti levi di lì! Ah! Ecco! Ah! Ecco! Ma lo conchia urla poco mascula! Ah! No! Ho finito le cure! Merda! 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 Secca! Secchissima! Tutta schifosa! Dove sono? Dove sono? Ecco! Allora uno lì! Ma dai! Vai nel Kirat! Che bello! Dai che ci sono le ceneri della mamma che le devi buttare giù nel fosso! E ora qui! Questi sono i risultati! Ah! Ma no! Dove cazzo è volato? Tutto a posto? Ma dai! Ma che voli fanno con quest'arma? E ho finito ufficialmente le cure! Venga! Eh vabbè ma che cazzo di colpi sono? Ah! Un secondo! Eh! L'hai preso? Sì! L'ho preso! Cosa? Ti vengo a prendere appena finisco la colazione! Ma dai! È incredibile quanto sia difficile trovare del bacon da queste parti! Basso e chiudo! Un pochino è vero! Ok! Ma mi ha parcheggiato così? Nessuna pietà! Missione completata! Yeee! Glice dell'arma verde! Sììììì! WowCaptual!